Compagnia della docente universitaria Francesca Romana Recchia Luciani, autrice del saggio Sex and the City, indizi per un'erotica contemporanea, contenuto nel volume Pop, Filosofia, a cura di Simone Regazzoni, edito da Il Melangono. Bentrovata Francesca. Ciao. Professoressa, che tipo di universo è quello di Sex and the City, la fortunata serie americana che ha concluso il suo esordio nel 2004, ben dopo sei stagioni? Beh, è un universo estremamente interessante, tanto che il nostro tentativo è quello di analizzarlo con le categorie della filosofia, cioè in realtà la nostra idea è quella di far uscire questo genere di produzioni dall'ambito degli studi culturali o strettamente sociologici e di farne oggetti filosofici. Nella convinzione che ciò che rende filosofico un tema non è l'oggetto, ma la modalità di affrontare quell'oggetto. Dunque anche l'universo di Sex and the City è un oggetto filosofico ed è un universo estremamente interessante perché è un universo nuovo, originale, in cui si muovono dei personaggi estremamente interessanti che hanno delle caratteristiche. Ecco, e parliamo proprio delle quattro protagoniste, Carrie, Miranda, Samantha e Charlotte, quali tipologie femminili incarnano? Eh, appunto, è esattamente questa la modalità. Noi ci siamo posti esattamente questo tipo di domande, quali modelli antropologici incarnano queste quattro donne che sono appunto assolute protagoniste della serie? Sono donne brillanti, in carriera, molto intelligenti, con una vita sociale fittissima, molto glamour nel modalità di relazione con gli altri, dunque evidentemente sono la rappresentazione di modelli femminili assolutamente nuovi che, come dire, ribaltano una prospettiva tradizionale di quello che è il ruolo della donna. Naturalmente abitano in uno scenario urbano, New York, Manhattan, una Manhattan completamente dimentica dei problemi politici o economici, una Manhattan che viene prima della crisi, che viene prima delle torri gemelle, ma è una Manhattan in cui appunto queste donne si muovono come pesci nell'acqua. Che tipo di rapporto intercorre tra le protagoniste e di quale tipo di innovazione si fanno promotrici? Allora, la relazione, il legame forte tra queste donne è l'amicizia ed è un'amicizia estremamente solida. In realtà la sensazione che a noi dà questa serie è che nella assoluta fluidità delle relazioni umane, l'amore liquido come lo ha descritto Bauman, questa idea appunto che i legami sono molto flebili, l'amicizia di queste donne è un legame invece molto forte. Addirittura c'è a un certo punto, ci sono molte metafore, no? Naturalmente il mezzo televisivo e quindi il genere che pratica Sex and the City consente di utilizzare delle metafore. A un certo punto c'è una metafora molto esplicita, quasi didascalica, in cui Carrie, che è la protagonista assoluta un po' così della serie, gioca su un trapezio, si lancia da un trapezio e sotto c'è una rete che è pronta ad accogliere la sua caduta e sono le sue quattro amiche. Sono lì, attendono le cadute ma attengono anche le resurrezioni perché chiaramente l'amicizia è fatta di tutte queste cose. È un'amicizia molto forte, è un legame molto intenso. Forse è l'unico legame così intenso tra le relazioni umane che vengono esposte nella serie. Che ruolo gioca il sesso? E quali meccanismi scatena nella vita delle protagoniste? Appunto, la serie si chiama Sex and the City, quindi è evidente che il sesso è estremamente importante. Ma si collega a quello che dicevo prima. Questi modelli antropologici nuovi, hanno questi modelli femminili nuovi, hanno una relazione col sesso che è diversa da quella che, diciamo così, la tradizione sessista ci abitua a immaginare. Ovvero sono molto più disinibite. Io espongo in particolare una figura che è Samantha, che è quella più libera nelle sue relazioni. La definisco appunto una donna che è dedita al nomadismo erotico. È una donna che, esattamente come il Casanova o come il Don Giovanni, che sono figure maschili, si muove con grande libertà nell'esplorazione delle relazioni sessuali. E questo è un elemento che traccia un profilo antropologico assolutamente rilevante. Perché in realtà queste donne, che pure in alcune di loro, per esempio Carrie e Charlotte, sono molto attratte dall'ipotesi di legami saldi. C'è Big, che è la figura del compagno uomo che attraversa la vita di Carrie. Qui entriamo nell'ambito dell'amore. Ecco, ecco. Quindi dal sesso attraversiamo invece... Esattamente. Cioè c'è una relazione col sesso che all'inizio della serie, secondo me ci sono ragioni anche legate alla sceneggiatura di questa serie. Queste donne sono molto disinibite all'inizio. La serie parte anche con un profilo un po' tra virgolette di scandalo. No, vuole, come dire, colpire. E quindi queste donne sono molto disinibite e cambiano partner con grande rapidità.